eccoci arrivati in birreria dai entrate trovato è proprio una fantastica occasione per prendersi un attimo di respiro dalle difficoltà quotidiane una birreria è interessante è così carino ok ok è il mio momento facciamo per un bicchiere d'acqua gli piace l'acqua anche a me piace l'acqua abbiamo così tante cose in comune va bene posso farcela ora entro ora entro magari facciamo un'altra volta mi prendi pericolo